Scusa, ma se faccio torneo, allora? Torneo, va, Italia! Verrata, Giorgine, Chiese, Insigno, Immabilla! Dannarumma, Bonacci, Flarenza, Baralla! Oh, eccolo! Mi seguo! Mi seguo! Oh, Pokémon! Dagli cazzo, forza Italia! Ciro, Immobilla, per Insigno. Insigno che è pelato, ovviamente. Verrata che è uguale a Insigno. Verrata la gira per Immobilla. La prende Insigno, ma la Grecia subito riprende palla. Immobilla perde palla, Verrata. Verrata un'altra volta. Verrata! 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 Si alza la palla. Verrata! Chiese, 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 chiese! Immobilla, Immobilla! Metti in mezzo sta palla! Insigno! Insigno! Non ce voglio crede, porco Dio! Cosa? Ma che è successo? Si è fermato il tempo! Verrata gioca per Insigno. Insigno che si gira e fa un passaggio strevidoso per Immobilla. Immobilla! 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 No, porco Dio, zi! Ma che cazzo ti dirò, è Immobilla! Perché c'è Donna Rumma per terra? Acerbi! Acerbi una volta e poi la butta fuori. La prende Baraghi. Baraghi che si prende una rimessa fovo importante. Baraghi adesso arriverà a centrocampo con una rimessa. Hulk! Eccolo qui! Palla per Insigno che la gioca tranquillamente. Perde palla. Liga gre... Anastosius Beccasetas! Porco Dio, Immobilla. Immobilla, Immobilla, Immob... No, ragazzi, è un aborto. Ma è un aborto, Immobilla. Riga, è un aborto... No, Agna, siamo andati fuori. Ma siamo fuori. Cosa? C'è il ritorno. Ma che è? Ma che è? Tekken 7! E adesso serve un bel miracolo, ma più che altro servirebbe qualche cambio in un'Italia che non sembra carica. Ah, sì, come ha insegnato l'Italia. Adesso si gioca per vincere. Prende palla subito Insigno, 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 Immobilla! Che palla da per Giorgine! Giorgine, Giorgine! Metti sto pallone! Niente, è il mago, lascio a Dimas, frate, non passa. E la madonna troia! ma regà faccio gol notteggiamo segno delle corna 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 regà non si può segnare non posso non so come segna devo fare il gol della merda in segno in segno in segno scatta mi serve che immobilia mi segui il segno eccolo eccolo il gol della merda Giorgine vaffanculo dai parco Dio non si rie... Bonacci 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 lo vede davanti Giorgine Giorgine che si gira ma riprende la palla Ferrata 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 assistito da Giorgine cosa pensi di Gorilla Giallo? eccolo Ferrata lo vede davanti Ferrata per Giorgine da qui Giorgine Giorgine ci riarriva porco Dio lungo per Ferrata il portiere sta lì fa il balliscio Ferrata si alza la palla a Parella 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 al 93 Parella la Parella al centro del villaggio porco Dio ma fa un gol su sto gioco è complicatissimo una finale una finale una finale anticipata Tolisse Pogbe Mbappa 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 e Griezmann 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 Mbappa porco Dio Mbappa tocca fermarlo Mbappa trova un modo per fermarlo ma sta nevicando Insigno lo schema per Immobilia 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 si alza la palla vede Chiese che scatta sulla sinistra sulla destra Chiese palla e mezzo per Immobilia niente subito l'Italia che spigna con Biraga Tolisse passaggio davanti per Mbappé Mbappa che non no no ragazzi ma Mbappa è questo qui è questo è questo bianco che sta facendo degli interventi è questo bianco con la cresta ma come fai a sbagliare ma non può ma non si può ti prego Giorgi no ragazzi Giorginho Giorginho è vomitevole si Griezmann la butta fuori è un bellissimo gesto quello di Griezmann che bel gesto quello di Griezmann Insigno per Immobilia Immobilia sui piedi Immobilia 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 Mandande Giorginho Giorginho non è fuori gioco non è vero niente si non si può superare Conte per Sissace che fa un tiro incredibile la Francia adesso spinge bisogna resiste bellissimo intervento Poggebe la butta fuori un bellissimo gesto di fair play di Poggebe che la butta fuori senza problemi balla di nuovo per Berratta che adesso la sbalanciano avanti Varana la butta fuori un gesto strepitoso quello di Varana è proprio bello vederglielo fare Varana un'altra cosa Insigno 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 che poi rientra vede Giorginio 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 la para mandando senza problemi ti prego Barana vai in mezzo Insigno chissà come finirà Immapiglia e adesso ridacci la nostra mi seguo babba insigno 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 è gol è gol è gol Polizze alzati 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 adesso ridacci la nostra gioconda perché siamo noi no ragazzi il terzo lo sbaglio sempre è nostra è nostra vogliamo la gioconda a EO Materazzi ha fatto gol si segnala l'abbiamo vinto Conte Conte contro Danna Rumba Conte contro Danna Rumba Conte la mette e adesso è tutto no non mi di Giorginio no non mi di Giorginio no Verrata 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 è fatta è fatta è fatta ma zi stavo in semifinale contro il Galles eh no io devo finire ancora i giochi brutti mi sono allungato ho trovato tipo il gioco zizu zizza che golletto ho trovato un gol tipo quello zizu zizza ma è ancora peggia oh cristo non la prende non la prende Gigi Donnarumma di mano senza ma non posso in treppe io che io io che provo a testare i videogiochi vabbè se fa un altro gol subito Verrata 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 per Insegno a mezzo che si ferma si ferma non vuole segnare Insegno Verrata vede avanti Insegno Insegno che prende palla si gira e la tira fuori la tira fuori Immobiglia prende palla ultimazione Immobiglia no finisce qui uno a uno tanto l'igono bella sta valletta filtrante Insegno 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 e fa un gran gol e fa un gran gol manda al barri il portiere manda al barri un difensore una palla strepitosa di Giorgini oh passaggino tranquillo la prende Insegno si gioca 360 cli bam fuori no buono quanto lo sapevo quanto lo sapevo Insegno gira dietro per Verrata Verrata passa per Giorgini Giorgini palla lunga per Verrata e finisce qui siamo in finale signori siamo in finale Italia Australia per la coppa del mondo Insegno cerca il bandalo della matassa Insegno un'altra volta Insegno Insegno il bolide Schlagar passaggio all'indietro per Bonacci che la passa a Donna Rum senza problemi vi giuro che la volevo dare a Donna Rum vi giuro che vi giuro che non era una gag questa questa si la volevo semplicemente dare a Donna Rum raga io non so che cosa Dizzi chi era andato addosso Giorgini 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 vedi Insegno palla per finisce il primo tempo 1 a 0 per l'Austria Insegno Insegno di nuovo eh ma c'è un dominio dell'Italia clamoroso Insegno Insegno Immobilia 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 corri corri Immobilia corri 1 a 1 Sfrutta un attimo il momento di defiance della difesa dell'Austria Insegno può vedere Immobilia al torno Immobilia e venga allo stupidoso Gioro Immobilia la mette e l'Italia ribalta la situazione ribalta il pronostico se lo merita per questo che non la Immobilia 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 e incontri il torneo fa qualcosa di strepitoso fa qualcosa di strepitoso ma che cazzo sto a vedere ma che cazzo sto a vedere che cazzo sto a vedere e niente imbolide Grazie a tutti